3.0 storie digitali alla radio 8.5 di ritorno in diretta su 3.0 storie digitali alla radio per parlare di connessione e iperconnessione ad esempio se io pronuncio parole come nomofobia, aigoba, cyber sickness a qualcuno fa venire in mente qualcosa, insomma sono delle problematiche in cui volendo possiamo incappare qualora si sia particolarmente dediti in maniera parossistica all'uso di strumenti digitali strumenti digitali che spesso ci sono alleati ma che sono talvolta anche degli status symbol che rincorriamo per parlare di tutto questo abbiamo invitato in studio Flavia Margaritelli, buongiorno, benvenuta salve, buongiorno Giada lei è una psicologa del lavoro, consulente e formatrice nonché presidente dell'osservatorio salute e sicurezza e coautrice di un libro che si chiama Stress, lavoro e benessere che è in libreria ed è stato pubblicato da Franco Angeli perché l'abbiamo chiamata? Perché noi che in questo programma siamo, come dire, techno friendly insomma siamo dediti a raccontare storie che hanno a che fare con l'innovazione digitale però ci poniamo anche lo scrupolo insomma di come governare questi strumenti che come dicevo ci sono d'aiuto però devono essere padroneggiati con cura non a caso per esempio in Francia si è scelto di istituire per legge il diritto alla disconnessione che ne pensa di questo Flavia Margaritelli? C'è bisogno di stabilirlo per legge, insomma di avere il diritto di staccare cellulare e non rispondere alle mail fuori dall'orario di lavoro? Allora, ovviamente non mi pronuncio sul legislatore o meno, a parte gli scherzi sicuramente è importante il fatto di introdurre delle misure e quindi che vanno a tutela della salute questo è sempre importante in ogni caso perché sia a facilitare una cultura insomma che sia di rispetto della salute appunto nei luoghi di lavoro ma non soltanto sui luoghi di lavoro è sempre una cosa che va a favore del nostro vivere sano e del nostro vivere meglio insomma nella società per cui in Francia sì c'è stata l'introduzione di questa legge, è stata sicuramente importante in Italia in realtà non c'è una normativa che riguarda questo, né io posso pronunciarmi su questo aspetto perché sono una psicologa però indubbiamente si assiste al fatto che in moltissimi luoghi di lavoro e in moltissime aziende non si riesce facilmente a staccare Ecco, quindi ci si ritrova per esempio al parco coi figli a rispondere a mail che molto spesso sono poste in maniera urgentissima insomma Se già fossimo diciamo al parco coi figli già sarebbe un passo da avanti In realtà si assiste al fatto che molti manager e anche responsabili all'interno delle aziende soprattutto dei grandi contesti aziendali quindi le grandi veramente aziende si portano il lavoro a casa quindi che cosa significa? Che la sera continuano a rispondere alle mail oppure durante il fine settimana, il sabato e la domenica continuano comunque a implementare il loro flusso informativo Questo significa non riuscire a dare quella giusta pausa che ognuno di noi invece merita della quale ha bisogno e quindi non riuscire a interrompere l'attività lavorativa Lasciamo per qualche istante l'ambito del lavoro che appunto come dicevamo giustamente la necessità di staccarsi da ciò che è necessario fare per lavoro è valida per tutti però per tornare sull'argomento che citavamo qualche istante fa cioè sulla questione del bisogno, dei bisogni indotti legati alle nuove tecnologie insomma gli strumenti tecnologici, i vari device ci sono d'aiuto in tantissimi sostituiscono molto spesso tanti anche degli strumenti che prima utilizzavamo per vedere il tempo, per calcolare, per fare un conto oggi sono tutti all'interno di uno stesso strumento però al tempo stesso ci inducono a rincorrere anche dal punto di vista tecnologico l'evoluzione e non perché siamo dei nerd ma molto spesso perché siamo attaccati a questo status symbol del cellulare oppure appunto dello strumento che sia sempre più all'avanguardia e che cosa comporta il fatto di rincorrere questo status? Allora nel rapporto tra l'uomo e la tecnologia ovviamente l'evoluzione in qualche modo ha permesso di agganciare dei significati simbolici allora è chiaro che se io fino a qualche anno fa quindi in un'era diciamo industriale o post-industriale aveva a che fare con alcuni mezzi tecnologici che potevano essere l'apparecchio telefonico all'interno della nostra casa piuttosto che invece il televisore il rapporto con la tecnologia è totalmente adesso cambiato perché fa parte di me, della mia vita è assorbito totalmente il mezzo, è assorbito totalmente dalle mie attività e quindi si assiste ad una sorta di, mi scuso insomma per questo uso una sorta di fusione con il mezzo tecnologico è come se fosse una mia protesi noi stessi quando non c'è bisogno di essere psicologi per osservarci e per girarci intorno quando attraversiamo la strada assistiamo al fatto che molte persone utilizzano il telefono, controllano le notifiche vedono delle cose sul proprio telefono in quel caso ovviamente c'è un decadimento dell'attenzione della concentrazione, magari sto attraversando la strada che cosa significa? che la persona in quella situazione non sta ragionando? no, è che semplicemente l'uso del telefonino in quella situazione fa parte di me è come se fosse diventata una mia protesi una mia protesi un po' come avveniva insomma se uno vuole ragionare con le auto insomma chi ce l'aveva più grossa, più di alta cilindrata insomma secondo alcuni canoni abbastanza sardandizzati aveva un effetto, un fascino maggiore però diciamo questo è l'aspetto negativo quello positivo è che questi strumenti ci permettono innanzitutto molto spesso di risolverci la vita tramite applicazioni che ci incoraggiano che so, una ad esempio che abbiamo conosciuto qualche settimana fa è quella di darsi dei passaggi auto le mamme per i bambini che vanno a scuola quindi in qualche maniera le applicazioni e questi strumenti ci aiutano dall'altra però, anzi non dall'altra però dall'altra inoltre ci mettono in relazione siamo quindi meno soli rispetto al passato anche grazie all'uso dei social network per esempio? allora questa ovviamente è una domanda in un certo senso filosofica in parte sì siamo meno soli in parte no che cosa significa? sicuramente l'essere umano si relaziona sempre con due variabili fondamentali che sono il tempo e lo spazio allora è chiaro che se io utilizzo di più il mezzo tecnologico come per esempio il telefonino, lo smartphone quindi il touchscreen per cui utilizzo anche una manualità ho un rapporto con il mio corpo se vogliamo anche più corporeo riferito a me nel momento in cui utilizzo di più questo mezzo perché lo faccio? lo posso fare per mille motivi lo faccio perché voglio reperire delle informazioni perché voglio sapere dove mi trovo mi serve una strada voglio acquistare dei prodotti voglio acquistare dei servizi oppure invece voglio entrare in relazione con gli altri ecco sulla tematica di entrare in relazione ovviamente con gli altri noi rispondiamo fondamentalmente a un bisogno fondamentale che è il bisogno proprio sociale e nello stesso tempo anche un bisogno di appartenenza al gruppo ancor più se stiamo in una fascia magari di età come potrebbe essere quella adolescenziale dove il bisogno di appartenenza al gruppo è ancora più importante anche se c'è da dire che insomma il gruppo quando si è adolescenti si forma anche attraverso i contesti che si vivono quotidianamente forse in età più matura la rete gioca un ruolo più importante perché permette di creare connessioni laddove si finisce per stare più chiusi in casa permette di creare connessioni e permette di creare dei nuovi confini tant'è che infatti ci sono delle dispute sul fatto se ci siano più confini che vengono definiti o meno confini in che senso si tocca una sfera tra il pubblico e il privato nel momento in cui io vado sui social network è come se stessi ad assistente a una specie di agora quindi quando io scrivo il mio post sotto il commento di qualcun altro su facebook in realtà ho uno spazio bianco quindi scrivo un qualche cosa scrivo quindi un testo che rappresenta a me per come io voglio che gli altri mi possano vedere per come intendo apparire insomma come avviene poi però in qualche maniera in un agora reale perché noi stessi magari siamo differenti in casa rispetto a come siamo sul posto di lavoro in un contesto di amici oppure in un contesto pubblico ecco su questo volevo portarti proprio a dirmi quanto la nostra immagine social a lungo andare ci somigli veramente al di là della costruzione di ciò che vogliamo trasmettere allora naturalmente nessuno di noi è uguale all'altro quindi va fatta una prima distinzione sul fatto che siamo tutti diversi e quindi la nostra individualità automaticamente la riportiamo anche sui social all'interno di questa individualità noi possiamo scegliere di dare un'immagine per esempio legata all'ambito lavorativo e quindi in questo caso il social network ci serve come per esempio LinkedIn piuttosto che invece anche alcune pagine insomma pubbliche anche di Facebook ci può servire per metterci in relazione con gli altri per un discorso semplicemente lavorativo piuttosto che professionale quindi in questo caso è chiaro che l'immagine che io voglio dare abbastanza collima con quella che io voglio dare anche all'esterno normalmente perché sono all'interno di un ruolo cioè sto vivendo un ruolo vero e proprio diverso invece è il caso in cui io voglio entrare in relazione con i social netto perché ho bisogno di socializzare perché mi sento solo effettivamente molti fenomeni che sono stati osservati soprattutto in Giappone per esempio pensiamo all'ikikomori che significa il mi ritiro è proprio l'esempio classico di quando io utilizzo i social network che in realtà vado incontrato un paradosso cioè più cerco socialità e meno invece vivo la socialità nel contesto reale cioè concreto nel senso che mi chiudo nella mia stanza col computer e di fatto mi isolo, non esco di casa, non vedo gente mi ritiro, non esco di casa, si arrivano vabbè lì chiaramente entriamo nell'ambito delle dipendenze vere e proprie tecnologiche in quel caso si arriva addirittura ad ordinare il pranzo attraverso internet non si dorme più non si va più al mercato, non si va al ristorante, non si vedono persone però come facciamo a capire? cioè quali sono i segnali che ci permettono di capire se stiamo in una sfera di rischio? cioè in base al numero di connessioni giornaliere in base a quanto siamo tentati di andare a controllare notifiche sul cellulare cioè ci sono in questo caso pur essendo ogni singolo individuo differente dall'altro delle linee entro le quali avvertire la soglia di pericolo? allora ci sono sicuramente sempre dei fattori di rischio e di vulnerabilità così facciamo pure la consulenza personale capisco se sono a rischio o meno non credo allora sicuramente esistono dei fattori di rischio e di vulnerabilità così come esistono anche dei fattori di resilienza cioè fattori dove io invece posso potenziare alcuni aspetti di me allora io non posso sapere se sono più o meno predisposto alle dipendenze tecnologiche così come non posso sapere se ho determinate caratteristiche nei tratti di personalità però posso sapere che darsi il limite per esempio di non superare un tot numero di ore all'interno dell'arco della giornata è sicuramente più sano rispetto al fatto di stare sempre iperconnessi quindi quando consigli di staccare, di mollare, di staccare proprio la spina e spengere il cellulare sì, esattamente nel senso che l'obiettivo nostro non dovrebbe mai essere quello di avere paura del mezzo perché il mezzo ci serve la tecnologia ci serve è proprio uno strumento lo dice nella parola stessa medium quindi è uno strumento che ci serve per vivere per effettivamente facilitare i nostri contatti velocizzare i tempi e quindi per metterci insomma delle cose in più quello che invece dobbiamo porre attenzione è all'aspetto positivo cioè cosa io posso fare per il mio stato di salute come posso stare io meglio allora sicuramente se mi collego un 5-6 ore al giorno in continuazione utilizzando per esempio il telefono questo può essere nocivo cioè questo è ripartito naturalmente durante la giornata durante l'arco della giornata quindi si deve avere anche un minimo di consapevolezza nel rendersi conto quante volte e per quanto tempo siamo connessi sì, quindi il tempo, la variabile tempo è una variabile che io devo tenere in qualche modo sotto controllo sotto controllo significa semplicemente rendersi consapevoli cioè io mi sto collegando a internet per quale motivo perché devo controllare delle mail di lavoro va bene, questo va bene oppure invece perché non ne riesco a fare a meno il controllare per esempio le notifiche in continuazione tu prima hai fatto riferimento alla nomofobia il panico da cellulare spento e sì, in un certo senso è come se fosse un panico ovviamente non è un vero e proprio panico è un'ansia diciamo si manifestano dei sintomi di ansia dal fatto che innanzitutto il termine che cosa significa nomofobia significa no mobile fobia quindi paura di non rimanere più connessi e che significa un piano più basico magari avere timore che qualcuno di importante ci possa chiamare che so, in famiglia invece da un lato immagino insomma quello forse può essere un po' più pericoloso proprio non poter controllare non poter verificare le notifiche che è ben differente che è ben differente dall'apprensione verso la famiglia, i cari o una chiamata di lavoro assolutamente avere più telefono avere sempre con sé la spina per poter ricaricare queste tra l'altro sono cose che faccio anche io certo, facciamo tutti assolutamente sì però invece controllare in continuazione per esempio le notifiche questo si aggancia psicologicamente ad un altro aspetto importantissimo perché noi psicologi ci dobbiamo sempre ricordare che non siamo soltanto psiche no? e quindi non siamo soltanto siamo corpo esattamente allora è chiaro che si innescano dei circuiti importantissimi tali per cui io in qualche modo vengo gratificato cioè se ricevo delle notifiche è come se rispondesse ad un bisogno e quindi vengo soddisfatto certo, tanto che ovviamente non avendo competenze di tipo psicologico però osservando la rete da fruitrice attiva mi domando sempre quando vedo che so utenti di un social network che mettono foto mirabolanti in cui sono bellissimi in quel momento se quello coincide magari con lo stato d'animo con la necessità di avere conferme oppure con un momento particolarmente positivo in cui ti senti in vena di esporti al meglio che puoi allora lì è un altro discorso nel senso lì è legato all'immagine e al bisogno di popolarità e di visibilità che tra l'altro è un fenomeno che è stato studiato da alcuni ricercatori proprio sulla fascia adolescenziale perché si è visto che gli adolescenti utilizzano per esempio Twitter molto di più per andare a rinforzare l'elemento della popolarità quindi ha un bisogno un po' di... assolutamente certo certo sicuramente però in quel caso diventa una specie di gioco in un certo senso più divento popolare più c'ho follower no? questo per gli adolescenti ma se si è adulti? se si è adulti invece innanzitutto perché l'adulto dovrebbe andare sempre su internet no? se ci va o perlomeno spesso lo può fare anche per gioco ovviamente ma può consultare internet perché magari inizialmente vuole semplicemente reperire delle informazioni poi incomincia a avere più familiarità con il mezzo e magari incomincia anche a sperimentare delle chat dei forum incomincia anche a frequentare dei siti a volte anche siti pornografici questo si deve anche dire sì certo e anzi è molto diffusa è molto diffuso è molto diffuso e non c'è diciamo anche qui da demonizzare il discorso è che un po' alla volta a quel tipo di realtà se risponde ad un mio bisogno che è quello di essere in un certo senso portato ad evitare il contatto reale e sociale con le persone a quel punto si aggancia questo bisogno e quindi io vengo rinforzato perché entra in gioco un elemento di gratificazione quindi di conferma la conferma che veramente fin da ragazzini si attende dai propri genitori più avanti dalla società ma anche chimicamente cioè questa è la differenza ecco come funziona? nel senso che noi abbiamo ovviamente sempre all'interno dei nostri circuiti cerebrali ci dobbiamo sempre ricordare che siamo in qualche modo dei piccoli laboratori chimici che camminiamo e quindi nel momento in cui soddisfiamo dei bisogni noi andiamo anche a elaborare diciamo così più dopamina per esempio e quindi questa dopamina porta ovviamente a rinforzare ancora di più il piacere cioè io rimango soddisfatto mi piace andare sul mezzo ci dà benessere certo per un tempo circoscritto perché insomma è il tempo della conferma della notifica che dura il tempo che dura ecco perché bisogna come dicevamo all'inizio di questa nostra conversazione essere padroni degli strumenti cioè capirne la potenzialità di questi medium di questi mezzi però governarli in modo che non ci sia la sopraffazione prima parlavamo della nomofobia come difficoltà proprio ansia da cellulare da dispositivo spento e poi ci sono degli effetti proprio sul fisico raccontavamo dell'aigoba cioè questa postura che tendiamo ad assumere quando siamo di fronte a un cellulare oppure a un ipad addirittura sì addirittura il tunnel del carpale ecco appunto quello magari veniva col mouse esatto veniva con il mouse adesso si usa di meno sicuramente oppure questa cyber sickness cioè la nausea dei naviganti insomma se passiamo ore in questo caso molto spesso lavorando davanti a un monitor c'è il rischio che una volta che distraiamo l'attenzione spostiamo gli occhi altrove ci sia quella sensazione come di essere appena scesi da una nave comunque un mondo estremamente complesso composito peraltro chi volesse informarsi anche dell'attività di Flavia Margheritelli che stamattina è stata qui con noi a 3.0 storie digitali alla radio si può andare sul sito della vostra associazione che è appunto l'osservatorio salute e sicurezza www.osas.tv oppure dare uno sguardo in questo caso se si è interessati ai temi del lavoro di cui pure lei si occupa al libro che è Stress, lavoro e benessere pubblicato da Franco Angeli grazie quindi per stamattina per essere stata con noi a Flavia Margheritelli le auguriamo una buona giornata grazie a voi grazie altrettanto buona giornata a tutti grazie a tutti